Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale di Bambina, questo oggi vi porto un'altra parte di Alexia Spargarò sul circuito di Bergo. Mi raccomando, se volete suggerirmi un'innovazione di un'innovazione di un'innovazione di 120, inseritevi sotto i commenti il pilota al circuito con un salimento al numero di giro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.